Buonasera e benvenuti nel mio canale. Oggi vorrei parlarvi del mio ultimo acquisto, che come vedete nelle immagini è un'action camera. E' l'action camera della Xiaomi o Xiaomi. Il modello è Xiaomi Mija 4K. Ho deciso di comprare questo modello per tre semplici ragioni. La prima sono i filmati, fa dei filmati in altissima risoluzione. La seconda è i materiali, che sono di altissima qualità. E terzo è il prezzo. L'ho pagata 82 euro, con vari sconti e coupon, già comprese di spedizione e di dogana. Ora faremo un breve unboxing, poi dopo parleremo dei settaggi del software che c'è all'interno e vi darò una mia opinione, perché io ho già una settimana che la uso. A mio parere è un'ottima strategia di mercato da parte di Xiaomi. Così riescono ad avere dei prezzi molto contenuti, dando dei prodotti di altissima qualità. I gadget poi si vendono su Aliexpress, su Gearbest, su Banggood, li potete trovare ovunque. Così si riesce ad abbattere un prezzo di all'incirca, ho fatto un calcolo di 30 euro. Comunque sia, io per esempio avevo bisogno soltanto di una cover, con 5 euro sono riuscito a comprarla. I materiali sono di altissima qualità. Tenendola in mano al tatto, anzi, sembrerebbe quasi che sia in metallo. Invece vi posso garantire che è in plastica. Comunque non è una scocca completa, ma si vede che sono più parti assemblate. Poi in basso troviamo la vite che serve per essere abitata su un piedistallo. Qui troviamo una presa, una chiusura per la porta USB, per non far entrare la polvere. Qui troviamo la batteria e la slot per la microSD. Se decidete di comprare questa action camera, vi dico già da subito che non funzionano le microSD normali. Allora, ci vogliono delle microSD molto veloci. Io addirittura ho comprato un modello Evo, che ha una velocità da 96, che è altissima. Non vorrei ricordarvi che quelle normali hanno velocità 10. Ho trovato problemi con i filmati in 4K, mi vanno a scatti. Riesco a fare il full HD anche a 100 fps senza problemi. Max 4K avrei dovuto comprare il modello Plus. Tenete presente quindi che se comprate questa action camera, probabilmente dovete comprare anche una microSD e spendere altri soldi. Le caratteristiche principali di questa action camera è il chip. Monta come chip, è un chip dell'Umbrella. L'Umbrella, non vorrei ricordarvi che è la migliore ditta che produce chip per l'action camera. Il chip in questione si chiama A12S75. Poi monta una lente della Sony a 8 megapixel, che fa dei filmati in 720p a 200 fps a 200 fps, che però vi sconsiglio perché la risoluzione è veramente pessima. Poi fa filmati in 1080p a 30 fps a 60 fps che sono i filmati che uso io perché sono i classici filmati che si fanno per montare i video per YouTube. Poi c'è il 1080p a 100 fps che è un'ottimissima risoluzione. Di regola serve per fare gli slow motion e poi dopo fa anche i filmati in 4K a 30 fps per secondo. Poi, come si chiama? Una cosa ottima che ho trovato, che ho riscontrato in questa action camera è che ha due microfoni per l'entrata dell'audio e poi ha una cosa particolare che non ho trovato su altre fotocamere con dei prezzi molto più elevati. L'uscita, come si chiama? Un microfono per l'uscita del volume. Questa è una cosa molto comoda perché se volete guardare un filmato non siete costretti a spostare il filmato sul computer o a guardarlo dal telefonino. Potete semplicemente vederlo dall'action camera. E anche il display è un ottimo display per le dimensioni. Parlo della dimensione perché è un 2 pollici e 4. Di solito le action camera montano display di 2 pollici. Una cosa particolare che voglio dirvi del display è che la risoluzione non è altissima. e come si dice, la risoluzione non è altissima e se devo essere sincero non è neanche così veloce, non è perfetto. Però ho riscontrato questa cosa che è veramente ottima. Praticamente è come si chiama? Alla luce del sole si vede benissimo. Se alzate il brightness che sarebbe la luminosità al massimo. Quando la usate all'aperto si vedrà molto bene. Al contrario della mia vecchia action camera che fuori all'esterno si vedeva ben poco. Poi ha uno stabilizzatore come si chiama per le immagini che però funziona soltanto in 1080p. Non funziona sul 4k. Su internet ho letto che con un futuro aggiornamento funzionerà anche con il 4k. Comunque ho visto filmati in 4k come si chiama in rete e non mi sembra che serva così tanto uno stabilizzatore. E per finire parliamo della batteria. È una batteria da 1450. Come si chiama? Loro ti dicono che dovrebbe durare due ore. A me non è durata assolutamente due ore. Comunque ha una buona autonomia. Io sono riuscito a fare un filmato di un'ora e mezza continua. Scaldava tantissimo l'action camera. Comunque sono riuscito a fare un filmato da un'ora e mezza con un filmato da 1080p a 60fps. Il peso, anche vogliamo parlare del peso, che è molto leggera. Pesa soltanto 99 grammi. Poi chiaramente ha una connessione bluetooth che poi vedremo quando guarderemo i settaggi interni e chiaramente anche un'uscita in wifi per essere collegata al telefono o al computer. Ok, ora l'abbiamo accesa e guarderemo i settaggi interni, il software che c'è all'interno praticamente. Allora, l'action camera funziona così. Con questi tre swipe, dall'alto verso il basso, troviamo le impostazioni rapide che sono lo spegnimento, il blocco a schermo, il collegamento wifi per il telefonino e poi, come si chiama, i classici settaggi che sono la scelta del video standard che è NTSC o PAL, l'SD card per entrare a vedere quanto spazio abbiamo usato e quanto ne abbiamo libero. Il default mode che io uso, che userete tutti sinceramente, che praticamente scegliete una modalità che può essere dalle video, slow motion o dalle foto. Lo scegliete e lo inserite dentro qua. E ogni volta che accenderete l'action camera, vi ritroverete in quella determinato modo che avete scelto. Il bip del volume, vabbè, questo è per l'altezza del volume. L'LCD brightness è quello che vi parlavo prima, la luminosità, io adesso ce l'ho medio per non consumare tutta la batteria, però quando decido di usarla all'aperto metterò in modalità alta. Rotate serve per ruotare lo schermo, se dovete appendere o mettermi in qualsiasi posizione strana. L'autoscreen lock, io ho messo due minuti, serve un blocco a schermo. L'auto power off è cinque minuti, se lascio l'action camera accesa si spegnerà in automatico. Wi-Fi auto on, praticamente ogni volta che accendo l'action camera si collegherà direttamente al telefono. Il bluetooth pairing per la connessione a bluetooth che io sinceramente non uso è la in housing mode che sarebbe con una pressione del tasto riusciamo a passare dal video alla macchina fotografica. Poi vabbè, l'user guide è una guida in inglese, alcuni passi per insegnarvi a usare l'action camera. Data e time, se volete inserire nelle vostre foto o nei vostri filmati la data e l'ora. La lingua che, allora, l'action camera funziona soltanto con l'inglese, il cinese e il cinese semplificato. E invece l'applicazione hanno appena fatto un aggiornamento e hanno inserito diverse lingue, che purtroppo però l'italiano non è ancora presente. Poi vabbè, camera default per, come si dice, per far partire di nuovo i settaggi da capo e il device info vi dirà, come si dice, gli aggiornamenti a che punto sono e le varie impostazioni. Poi, con uno swipe da destra verso sinistra troverete tutti i vostri filmati e le vostre foto che avete fatto. Invece, da sinistra verso destra troverete tutte le modalità che potete effettuare con questa action camera. Poi, entrando, per esempio, adesso entro in video, ecco, entrando in video, qui così in basso troverete i settaggi. Ecco, e da qui troverete, per esempio, la risoluzione, adesso è in 4K a 30fps, che di solito non uso mai. Io uso sempre questa, che è quella per i filmati per YouTube. Questa, Adjust Lens Distortion, è veramente una cosa ottima che hanno aggiunto in questa action camera, che non ho avuto né altre action camera che ho avuto in passato. Praticamente, cosa fa? Ecco, toglie la visita, la visibilità del, del, come si chiama, della high fishing, che praticamente possiamo fare dei filmati normali, o se no, riaccendendola, possiamo riavere anche questa modalità di filmato. Poi, il microfono, per chiudere il microfono, io questo non mi serve perché facendo filmati su YouTube, mi serve avere l'audio. Ah, una particolarità, ogni volta che voi accedete a, come si dice, a video, timelapse, o un'applicazione per le foto, e decidete di cambiare le impostazioni, poi non le ritroverete nell'altra applicazione. Cioè, praticamente, se noi impostiamo qua dei dati per, che ne so, per lo slow motion, poi, se accediamo a, come si chiama, all'applicazione dei video o delle foto, quelle impostazioni saranno dedicate soltanto per lo slow motion e non per i video normali. Ora parleremo dell'applicazione e poi vi dirò il mio pensiero, visto che io l'action camera la uso già da un paio di settimane. Allora, ecco, vi dico già da subito che la nota dolente è che l'applicazione... Ora vorrei spendere due minuti per parlare dell'applicazione. L'applicazione è questa, è la Mi Home. Se devo essere sincero, l'applicazione è una delle due pecche che ho trovato in questa action camera. Dico questo perché? Perché, di solito, le action camera della Xiaomi hanno la propria applicazione. Purtroppo, invece, questo modello di action camera si collega a un'applicazione che si chiama Mi Home, che fa parte di un pacchetto di videocamere che si montano nella vigilanza per la casa. Quindi, è una pecca. Perché dico che è una pecca? Perché tantissime impostazioni non si possono cambiare dal telefono, bisogna cambiarle per forza dalla action camera. Questa è uno dei due difetti che ho trovato in questa action camera. Il secondo difetto... Ecco, adesso si è collegata. Come si chiama? Il secondo difetto è quella che non si può collegare un microfono esterno. Se devo essere sincero, il microfono di registrazione che ha è un microfono che funziona benissimo. Però, per chi come me che ha comprato la action camera per fare filmati da mettere su YouTube, avere la possibilità di collegare un microfono esterno è una cosa in più. E visto e considerato che le ultime action camera della Xiaomi sono tutti collegabili con un microfono esterno, addirittura anche il modello più scarso di questo, che si chiama modello light, anche in quella si può collegare il microfono. Ecco, detto questo, niente, spero di essere stato d'aiuto per tutti quelli che decideranno di comprarla. Buona serata.